Ben ritrovati, buon Oedì e buon Crypto Monday. Si apre una delle settimane con più tensione dell'ultimo periodo, infatti nonostante qui su coin360.com possiamo vedere comunque del verde, quindi rispetto a 7 giorni fa con BTC che fa un più 1.5% ed Ether che fa più 2.78%, le due monete più capitalizzate, in realtà quelli che sono poi i volumi di scambiato sono molto bassi, quindi abbiamo una operatività molto bassa e una sensazione di calma prima. Questa per una serie di motivi potrebbe essere una settimana che farà vedere della volatilità, quindi state con me perché ci sono diverse cose da analizzare, cercherò di farlo nel minore tempo possibile e quindi sarà anche una versione di Crypto Monday più ristretta così da dare tutte le notizie necessarie e poi rilascio i link e i riferimenti per gli approfondimenti. Andiamo direttamente a vedere su CoinMarketCap quello che sta succedendo, in questo momento 941 miliardi di dollari come capitalizzazione totale e una dominance di Bitcoin e di Ether che si mantengono sui livelli della settimana precedente, quindi BTC quasi il 40% della capitalizzazione totale ed Ether quasi il 17%. Entrando subito su quello che è la visione sulle diverse finestre temporali, notiamo che Bitcoin rimane su questi livelli ormai da diverso tempo. Siamo attorno ai 19 mila dollari, sette giorni fa stesso livello, un mese fa 21 mila c'era stato un leggero rialzo, ma bene o male ci manteniamo, lo vediamo meglio dalla finestra temporale a tre mesi, su questo livello 19 mila, 20 mila in attesa di vedere cosa dovrà succedere a livello macroeconomico all'esterno del mondo crypto. Ne abbiamo parlato anche nell'ultima live su CoinSquare. Un anno fa invece il prezzo era molto più alto, eravamo in una situazione totalmente diversa sia per quanto riguarda i mercati all'esterno sia per quanto riguarda invece quelli all'interno. Un anno fa, giusto per dirne una, non c'era la guerra in Ucraina e non c'era questa escalation anche a livello di costi, di materie prime, di energia soprattutto. Quindi c'è una problematica che si aggiunge a una problematica che ci portiamo dietro, che è quella ovviamente della gestione della politica monetaria su una base di diversi anni, su un ciclo più allargato e poi c'è stato recentemente anche la problematica della pandemia. Quindi abbiamo tutta una serie di fattori che hanno caratterizzato adesso lo sfociare di questo ribasso generale sul mercato, un ribasso che vediamo anche nella crypto più capitalizzata su Bitcoin e in leva anche sulle altre. Considerando quello che poi è successo a inizio anno proprio nel settore, la debacle che è arrivata sulla DeFi, Terra Luna e tutto quello che poi ha portato una serie di conseguenze evidenti sul mercato che si possono vedere anche graficamente da qui. Questa è l'analisi tecnica di oggi, BTC USD, poco da dire perché effettivamente siamo rimasti sullo stesso livello di una settimana fa. L'unica cosa che è cambiata è che la media mobile a 50 periodi, queste sono tutte candele giornaliere, si è andata praticamente a portare su un livello che è quello di resistenza al momento attorno ai 19.900 dollari. Quindi in questo punto c'è una doppia resistenza in questo momento, è proprio sia un livello psicologico, quello dei 20.000, ma anche quello che poi ci manifesta una media di prezzo degli ultimi 50 giorni che molti analisti osservano sul giornaliero. Molto più in alto troviamo invece la media mobile a 200 e questa a 200 è in questo momento a ribasso verso i 27.000 dollari, abbiamo due importanti livelli, questo se dovessimo rivedere un'inversione di trend. Cosa che in questa fase, è brutto dirlo, non dipende da Bitcoin, ma dipende da fattori esterni a Bitcoin. Anzi, se devo dirvi la mia, vedere Bitcoin su questi livelli, che si mantiene su questi livelli, è un enorme segno di forza. Infatti tutto il resto sta subendo dei effetti anche inediti nella storia, qui vediamo un DXY che sta tornando a salire, questo è il paniere con cui si misura il dollaro, cioè il dollaro viene paragonato, questo è un indice, il dollaro viene paragonato su un paniere di altre fiat currency, tra cui c'è anche l'euro, la sterlina, lo yen, e si può vedere la forza che sta prendendo. Quindi quando poi ci sarà il cambio dollaro-euro, questo prende forza e viene rispecchiato proprio da questo indice qui. Sta tornando verso l'alto, lo abbiamo visto fare questi movimenti ormai da diverso tempo, praticamente è tutto il 2022 che ha iniziato questa scalata, e quando questo si rafforza, i mercati hanno una battuta dal resto, e anche Bitcoin che si indebolisce, proprio perché il controvalore è misurato su questo stesso asset. In questo momento il dollaro è molto molto forte, abbiamo poi un evento importante, un resoconto importante, che arriva proprio questa settimana, quindi andiamo direttamente a parlare delle 5 cose da sapere su Bitcoin e sul mondo cripto questa settimana qui, perché ce ne sono e bisogna stare attenti. Allora, la volatilità si è abbassata tantissimo, appunto quasi annullata in questa ultima settimana, ma in generale nelle ultime settimane stiamo vedendo un livello che fa ranging su una fascia veramente ristretta di prezzo. Quello che non sappiamo è cosa potrà succedere dopo, infatti secondo molti analisti siamo pronti a un grande movimento di prezzo, quindi a big move che potrebbe andare su o giù è in arrivo, tendenzialmente quando la molla si è compressa così tanto in passato, è questo quello che abbiamo visto. Ma in questo momento nessuno sa esattamente in che direzione si potrà andare, perché ci sono delle cose che non possiamo leggere e soprattutto non possiamo sapere dal grafico. Molto importante è andare a vedere al livello fondamentale che cosa sta per arrivare. Stanno arrivando dei dati economici che arriveranno dal 12 ottobre, ci sono delle tensioni in escalation, questo è su tutti i telegiornali, tra Russia e Ucraina e la guerra in corso, c'è uno shock sulle materie prime, sulle commodities e su quel mercato lì, e questo ovviamente condiziona un po' tutto il resto, soprattutto il rincaro sui costi energetici. E quello che andremo a vedere sarà il report del Consumer Price Index, il famoso CPI, ormai lo conosciamo tutti, che ci riporta lo stato dell'inflazione, questo per quanto riguarda negli Stati Uniti, misurata in un certo modo andando a considerare appunto dei parametri che ad esempio vanno ad includere tutti, qui vediamo una categoria con tutti gli items, tutte le varie cose calcolate all'interno di questa categoria, il cibo, l'energia e qui abbiamo tutti gli item meno cibo ed energia e poi si può consultare su cosa viene misurato questo indice. In ogni caso è qui che si fa riferimento su quanto il potere d'acquisto si sta indebolendo o rafforzando, in questo momento parlando di inflazione il potere d'acquisto del dollaro si sta indebolendo. Quindi ancora una volta per fare il resoconto, nonostante vediamo un dollaro molto forte qui sul grafico DXY, quindi è molto forte nei confronti delle altre fiat currency, ossia al cambio, se noi cambiamo dollari per euro ad esempio, in questo momento prendiamo più euro rispetto a tempo fa, a un mese fa, a tre mesi fa, a un anno fa. Però allo stesso tempo l'inflazione sul dollaro è molto forte, ossia il suo potere d'acquisto sta diminuendo. E di quanto? Ecco questo ce lo riporta con dei dati appunto il Consumer Price Index, che ci ha segnalato un aumento nello scorso CPI, che è stato quello del report di agosto, perché adesso il 13 ottobre arriverà il report per quanto riguarda settembre 2022. È aumentato addirittura rispetto al mese precedente dello 0.1%, segnalando un 8.3%. Vedremo quello che arriverà. Perché dico addirittura? Perché per combattere questo innalzamento sull'inflazione, l'impoverimento delle persone, perché il potere d'acquisto porta all'impoverimento della persona comune, che cosa si sta facendo? La banca centrale americana, e poi in replica anche la banca centrale europea, perché anche l'inflazione dell'euro è molto forte, questo lo possiamo vedere proprio dal paragone che quando vediamo dollaro e euro la situazione è simile anche in Europa, ma quello che conta è il dollaro, ricordo, perché il dollaro è la riserva monetaria mondiale, quindi va ad influire un po' su tutto il mondo economico. La maggior parte degli scambi internazionali avviene in dollari, per questo dobbiamo osservare questa moneta. Dicevo, per combattere questa inflazione si è andati verso una politica, che potremmo definire di austerity, dove la banca centrale non sta più facendo un quantitative easing, ossia non sta più emettendo denaro semplice per comprare anche titoli e fare altro tipo di operatività. Ha bloccato, sta alzando i tassi di interesse, quindi il debito diventa più difficile da ripagare con un rialzo dei tassi di interesse, quantomeno è meno incentivato il debito, perché se sappiamo che dobbiamo pagare di più per ripagare quel credito che abbiamo preso, probabilmente chiediamo meno in prestito. Tutti questi effetti sono proprio atti a diminuire l'inflazione della moneta stessa. E questo discorso andrà avanti a detta di Jerome Powell e della Federal Reserve, finché il dollaro non tornerà a livelli che abbiamo visto in passato e che si vogliono mantenere vicini al 2%. Qui siamo all'8.3, quindi una distanza molto molto ampia. La domanda che porto ogni settimana è quanto riusciranno a mantenere questa politica monetaria che viene decisa da poche persone, perché la cosa interessante da capire è che nonostante ci siano questi rilasci non è banale capire, non si sa, come vengono decise le prossime mosse per quanto riguarda i tassi di interesse e se si prendono in considerazione appunto questi dati CPI del mese precedente o comunque si fa una stima, non sappiamo come poche persone decidono queste politiche monetarie. Quindi al momento la domanda è quanto tempo riusciranno a mantenere questo regime di austerità che porta comunque, ci sta portando dritti verso una recessione enorme e grandi difficoltà economiche prima di cedere al tentazione di tornare a fare quantità di visi. Questa è la domanda che tutti i mercati si stanno facendo. Al momento comunque un po' tutti si aspettano ulteriori ribassi per quanto riguarda i mercati in generale. Anche perché, come detto, la tensione russa, Russia, Ucraina e la guerra sta raggiungendo livelli di preoccupazione evidenti un po' ovunque e non è di certo un aiuto a questa situazione. Quindi tornando a noi, se dovessimo invece osservare quello che succede su Bitcoin, da questo punto di vista non possiamo sperare che le cose cambino in un singolo mercato che comunque abbiamo visto essere molto influenzato con una liquidità che era stata condivisa con tanti investitori istituzionali che stanno operando in un certo modo in questo momento tornando liquidi, quindi tornando sul dollaro e questo ha influenzato anche il mercato cripto. Perché però Bitcoin si è praticamente stabilizzato da diverso tempo? Perché quelle persone hanno bene o male fatto quello che dovevano fare, sono tornati sul dollaro e in molti dati on-chain alla mano invece continuano a holdare Bitcoin. L'holding delle monete non è l'unico aspetto che però possiamo valutare. Dobbiamo valutare anche tutta l'economia e la struttura con cui Bitcoin si mantiene. C'è un'altra faccia della medaglia che è quella dei miners. Tutta la rete è mantenuta, le transazioni sono possibili grazie al lavoro, letteralmente al lavoro di miners che fanno questo per un profitto. Cosa sta succedendo al momento? Ci potrebbe essere, molto probabilmente secondo le stime, un enorme innalzamento della difficoltà di mining. Questo arriverà il 10 ottobre, questo arriverà quindi questa settimana, quest'oggi, domani al massimo. Questo incremento della difficoltà perché è comunque rischioso se prolungato? Perché già al momento con questi prezzi qui, molti miners sono sul trade-off limite per avere un profitto rispetto a quanto spendono. Considerato il fatto che l'energia sta aumentando in costo, quindi l'energia aumenta e costa sempre di più, mentre invece Bitcoin sta lateralizzando o tendenzialmente andando verso il basso. Finché la difficoltà per partecipare al mining continua ad aumentare, questo porta un problema e un filtro praticamente a tutti coloro che fanno parte di questa industria. Quello che succede non è un rischio per Bitcoin perché, come detto più volte, anche se il prezzo di Bitcoin dovesse scendere di molto non metterebbe a rischio quella che è la struttura. L'algoritmica andrebbe a riconsiderare una teoria dei giochi che porta poi miners a dover abbandonare quello che è il settore, quello che è il lavoro che fanno e quindi di conseguenza poi una difficoltà di mining che torna ad abbassarsi. In questo momento ci sono tre ragioni per cui la difficoltà di mining si sta alzando e sono riassunte in questo articolo. Innanzitutto si sono abbassati i prezzi dei mining rig che hanno avuto inizialmente un'impennata proprio dovuta a tutti i rincari dei prezzi, dei componenti e questo sta tornando su livelli un po' più gestibili e quindi il mercato ha ripreso ad investire perché i prezzi si sono abbassati e in molti hanno aumentato il loro quantitativo di macchinari. Un altro aspetto è quello che c'è molta più regolamentazione, quindi dopo l'esodo dalla Cina per i miners la distribuzione è aumentata, lo vediamo anche da questo grafico, adesso ci sono paesi come Kazakistan, Canada, Germania e tanti stati degli Stati Uniti che hanno iniziato a regolamentare e a rendere questa industria una parte integrante dell'economia di questi paesi. Nonostante questo, dopo il ban della Cina, la Cina, quindi che cosa è successo? C'è stata una migrazione, tanti sono andati a portare delle macchine o comunque a portare il loro hash rate, il loro hash power da un'altra parte, ma poi è ripartito anche il mining in Cina nonostante il ban. Quindi abbiamo avuto un incremento, prima un grande calo, ma poi è tornato un grande incremento della mining power. Terza causa è quella del merge, perché? Perché tutti coloro che comunque facevano i miners di professione non è che si sono spostati con la stessa macchina a minare Bitcoin, questo non era possibile, però hanno venduto magari il loro GPU, questa buona fetta di miners avrà pensato di far così, si sarà comprata con il ricavo dalla vendita una macchina dedicata a minare Bitcoin che adesso comunque è l'unica moneta in proof of work che ha senso minare e quindi che dà senso anche sul lungo termine a questa industria. Quindi questa ulteriore migrazione ha portato in questo momento, parlo di breve termine, a un ulteriore rialzo sulla hash rate che molto probabilmente dopo l'incremento della difficoltà porterà proprio a un all time high della difficoltà di calcolo in questo momento. Dove arriva il rischio? Arriva che dal punto di vista di mercato i miners in generale hanno accumulato nella tesoreria complessiva un circa un 78.400 BTC, questo lo possiamo vedere come sempre da analisi on-chain. Se nel caso estremo tutti i miners dovessero andare a capitolare, prima di interrompere la loro operatività andrebbero quindi a vendere questa tesoreria qui, questo loro quantitativo accumulato. Ovviamente è un caso estremo, non arriverà mai al punto che tutti non riescono a stare in piedi e vendono tutto insieme. Però il caso estremo è appunto una pressione di vendita di 78.400 BTC sul mercato che al momento sarebbe una cifra che porterebbe Bitcoin su un livello molto molto più basso di quello che vediamo attualmente. Quindi questa è la preoccupazione, un'ulteriore capitolazione dei miners. Se uniamo questa informazione di livello fondamentale con quello che poi è l'analisi tecnica che ci viene dal grafico se dovessi puntare su quella che può essere un andamento tra andare verso l'alto con il prezzo o andare verso il basso, in questo momento sono un po' più bearish e parlo del breve periodo. Ci tengo a precisarlo perché poi qualcuno mi interpreta male quando dico queste cose. Sul lungo termine sono e rimango bullish su questo settore, rimango bullish su Bitcoin. Se dobbiamo fare un'analisi di questa tipologia direi che a breve forse le probabilità sono più alte che il prezzo in un ulteriore movimento possa andare verso il basso. Quanto verso il basso? Quale sarà il bottom? Beh, se dovessimo guardare quello che è successo in passato, cosa che secondo me con le condizioni storiche attuali fa poco rima insomma, perché poi c'è sempre quella frase, la storia non si ripete ma spesso fa rima, è vero, però su cicli magari più brevi. Non so, questo non lo so, se questa volta con le condizioni inedite il tutto potrà essere appunto diverso, e quindi questa volta è diverso, ma in ogni caso se dovessimo prendere quello che è successo in passato, negli scorsi cicli ribassisti, io ho vissuto in pieno quello del 2018, come visto anche nel 2014 che io invece non ho vissuto, rispetto all'All Time I, il periodo che è passato prima di raggiungere il bottom è stato un periodo che se dovesse ripetersi uguale ci mancano praticamente circa tre mesi, cioè stiamo entrando in una finestra temporale di 90 giorni dove c'è una buona probabilità che se tutto si ripete come è successo in passato, Bitcoin possa toccare il suo punto più basso a livello di prezzo. Anche perché a livello di drawdown il minimo che abbiamo raggiunto è stato, con il prezzo di 17.600 dollari, un meno 74.5% rispetto ai massimi, e al momento siamo a meno 71%, che è molto lontano dai minimi che possiamo invece vedere del 2018 quando toccò i 20.000 e poi arrivò a 3.000 dollari, quindi ancora se dovessimo fare questo tipo di analisi siamo lontani. Per concludere, questa è l'unica frase che ci possiamo portare a casa, o il bottom arriva a breve, quindi entro la fine del 2022, oppure questa volta sarà differente. E purtroppo non abbiamo più certezze di questo. E ovviamente tutto il mercato poi viene condizionato da questo andamento, qui parlo di Bitcoin, ma purtroppo tutto è condizionato da questo andamento. E andando a vedere quello che è il livello di paura, rimaniamo su livelli di estrema paura, un livello che ormai vediamo da diverse settimane, a certificazione di un bear market molto intenso, molto lungo e molto difficile. Non vorrei aggiungere troppa benzina al fuoco, ma devo anche riportare questa notizia. È praticamente possibile adesso per i creditori di MongoX iniziare a fare delle procedure per arrivare ad essere ripagati, quindi sembrerebbe che l'exchange abbia riabilitato il sistema e ha rilasciato una funzione che consente ai creditori di selezionare il metodo di pagamento per poi ricevere quello che gli aspetta. Quindi questa procedura non sarà, ripeto, come ho detto in passato, una cosa che rilascia tutti quei Bitcoin che andrebbero distribuiti tutti insieme, però è un processo che è iniziato e quindi ci sarà un rilascio e un nuovo circolante per alcuni Bitcoin che sul mercato invece non c'erano più da diverso tempo. Questo porta un'offerta e come sappiamo, se la domanda non c'è con un'offerta aggiuntiva, il prezzo tendenzialmente scende. E quindi è un ulteriore spauracchio, ho già fatto un'analisi su questa cosa, secondo me non avrà un impatto reale dalla vendita perché in molti non venderanno questi Bitcoin, ma comunque la paura che provoca una cosa del genere si aggiunge a una paura generale, quindi la tendenza ancora una volta purtroppo è quella di vedere una probabilità più alta verso il basso rispetto a una probabilità verso l'alto. Come sapete io tendo a fare l'holder, quindi per me, essendo comunque ottimista sul lungo termine, questo settore dovrà ancora far vedere il meglio di tutto quello che deve succedere. E per questo motivo la mia ottica è sempre quella di andare a fare una strategia sul lungo termine e andare poi a analizzare il breve riportando quella che è la situazione per rimanere comunque sul pezzo, come si usa a dire. A questo punto ci possono venire in aiuto degli strumenti finanziari ed è per questo che approfitto nuovamente per far conoscere quello che Metaswap è. Metaswap è proprio uno strumento finanziario che consente di aprire degli swap di copertura proprio per coprire quelle monete che noi abbiamo, deteniamo, però se il controvalore scende in prezzo noi senza vendere riusciamo ad avere un profitto. Questo è un esempio di una posizione aperta su Ethereum, questa qui in basso. la posizione è stata aperta con un prezzo di Ether a 1389 dollari, il prezzo attuale è quello di 1312 dollari ed è questo il motivo per cui c'è un profitto portato proprio dallo strumento stesso che va a compensare la perdita momentanea che si ha sull'asset. E questo viene coperto fin tanto che noi decidiamo. Quindi c'è una data di scadenza che possiamo settare, possiamo coprirci fino a un determinata data ed è una sorta di assicurazione, mettiamola così, su quello che abbiamo. Praticamente il nostro quantitativo di monete rimane lo stesso, ma se il controvalore, in questo caso, si dovesse abbassare e abbiamo paura che si possa abbassare, possiamo aprire una posizione che va a farci fare profitto proprio in condizioni in cui invece andiamo verso il negativo. E la data la decidiamo noi, a differenza ad esempio dei future con posizioni perpetual o altre soluzioni. Questo degli swap, gli agent swap, sono gli strumenti più utilizzati nelle materie prime. Non a caso il progetto si chiama Metaswap perché è proprio rivolto a quel mercato e si vogliono poi inserire degli asset che hanno come sottostante proprio metalli ed altre materie prime. Al momento è già funzionante su Ethereum e Bitcoin, quindi per fare un'operazione, un'operatività di copertura proprio su Bitcoin e andare in tal caso a coprirsi se il prezzo deve scendere, se il prezzo scenderà, questo è un ottimo strumento. Perché cosa succede praticamente? Se noi abbiamo TOT Bitcoin e andiamo ad aprire una copertura per proteggerci, se il prezzo di Bitcoin sale, praticamente noi siamo contenti perché il nostro quantitativo che non abbiamo venduto va a avere un profitto e quindi andiamo a guadagnare. Se il prezzo invece dovesse scendere, con lo strumento e lo swap aperto noi andremo a guadagnare sullo strumento finanziario. Questo porta a un equilibrio che annulla praticamente la volatilità del prezzo ed è per questo che questi strumenti finanziari sono atti ad annullare appunto la volatilità, vengono utilizzati sui mercati delle materie prime perché un commerciante non può permettersi di non sapere a che prezzo venderà un certo tipo di materiale o a quanto deve comprarlo per produrre delle cose. Su come utilizzare questo strumento sto cercando di fare un'educazione con diverse live. C'è un link che vi lascio in descrizione per seguire anche perché oggi pomeriggio alle 7 ci sarà proprio un ulteriore approfondimento su come funziona questo strumento. Inoltre ci sono degli aggiornamenti, due positivi, un altro negativo che riguarda il prezzo del token di governance. Partiamo da quelli positivi, praticamente c'è il rilascio sulla landing page che tra l'altro è in lavorazione per avere un restyling su una nuova versione, tutta nuova, come da roadmap pubblicata pubblicata durante l'estate. Infatti qui faccio vedere anche brevemente la roadmap. È stata rilasciata la versione 1 della mainnet quindi proprio con questo strumento di protezione. Poi adesso le due nuove funzionalità sono quelle della demo, c'è una swap competition in corso, bug bounty in preparazione per trovare ulteriori bug. Al lavoro per l'introduzione del primo asset metallico e si è sotto studio per inserire l'oro, arriverà appunto la demo e la nuova front page e poi si andrà verso una inclusione più istituzionale tramite un nuovo strumento di cui poi si parlerà più avanti. Adesso la demo è stata lanciata su girly quindi praticamente c'è uno strumento per poter provare senza avere rischi, senza utilizzare praticamente gli asset reali. Una classica demo con cui impratichirsi e poi andare a riportare l'operatività reale sulla mainnet. Altra feature rilasciata settimana scorsa, nonostante il periodo difficile si continua a rilasciare feature su feature, c'è praticamente una, riportare un exchange decentralizzato che è quello di Uniswap all'interno della DAP. Quindi c'è l'integrazione dell'exchange all'interno della DAP stessa per poter fare appunto gli scambi collegando Metamask. Questa è una nuova feature introdotta power by Uniswap. Nonostante lo strumento sia poi appunto stato rilasciato, la conoscenza dello strumento è ancora molto bassa. Fatto sta che appunto il fenomeno che le fee portano sul buyback del token si è andato a vedere ben poco. Al momento la paura sta condizionando anche molto quello che è il token di governance che viene utilizzato per la DAO di Metaswap che sta vedendo un ribasso importante sul prezzo. Questo sta provocando molte domande molti dubbi e anche per questo motivo si andrà a fare un'analisi sulla economia del token nella live di oggi stesso. Quindi per chi volesse assistere a come utilizzare lo strumento e per chi volesse partecipare all'analisi appunto dell'andamento del token di governance oggi alle 19 per ricevere il link alla live bisogna essere nel gruppo Coinsquare Tutoring non ci sono solo notizie negative come ho fatto vedere ci sono anche delle caratteristiche che però sono più orientiate a lungo termine un po' come ho detto anche nel discorso adesso di Metaswap dove il protocollo continua a sviluppare e a lungo termine fa vedere appunto un potenziale anche per quanto riguarda Bitcoin e soprattutto per il mercato quello che riguarda Bitcoin è la notizia positiva che Bitcoin cresce cresce sia come adozione che nelle sue strutture tecnologiche nonostante il prezzo sia stagnante o tendenzialmente a ribasso con potenziali sorprese di bottom ulteriori qui abbiamo un dato che ci viene da Lightning Network che è layer 2 per avere delle transazioni meno costose quasi gratuite per si potrebbe dire e istantanee proprio per lo scambio di Bitcoin tra un address e l'altro la capacità viene misurata in Bitcoin stessi perché per consentire questi scambi e l'utilizzo di questo layer c'è bisogno di avere un quantitativo di Bitcoin che ne consentano la capacità proprio stessa dello scambio e questa è andata ad aumentare fino a 5000 BTC sono 96 milioni di dollari praticamente bloccati in Lightning Network una crescita importante qui lo vediamo appunto nella linea in celeste la linea in rosso a livello di capacità è invece in diminuzione perché la linea in rosso è quella sul prezzo che in questo contesto non conta quasi nulla quello che conta è quanti Bitcoin sono appunto bloccati considerando poi che a lungo termine parliamo di un asset con un massimale limitato massimo 21 milioni questa è la tendenza di crescita di Lightning Network che solo quattro mesi fa aveva 4000 BTC quindi un 25% in più in soli quattro mesi è un trend notevole questo perché si sta praticamente inserendo in diverse situazioni e con la difficoltà di altre strutture di pagamento questo sta prendendo una forza molto molto importante qui vediamo anche un meme riportato ed è il meme classico di chi lavora praticamente e chi si occupa di non badare troppo a risultato di breve termine ma essere focalizzati sul lungo notizie invece meno positive arrivano da altre situazioni abbiamo visto ad esempio questa settimana il blocco della Binance Smart Chain perché c'è stato un attacco potenziale che poi è stato effettivamente effettuato il problema come disse anche Vitalik in questo settore sta diventando Vitalik Buterin fondatore di Ethereum sta diventando quello dei bridge infatti c'era una pericolosità un bug che poteva essere esposto e attaccato ed è stato fatto sono stati creati praticamente dal nulla grazie a un bridge che è proprio poi il bridge ufficiale di BNB Chain più di mezzo miliardo di dollari in BNB che sono poi stati portati su diverse reti proprio tramite questo bridge questi non erano BNB di wallet di persone ma sono stati proprio creati dal nulla quindi trovando la falla all'interno del bridge con il bridge si potevano portare BNB che non esistevano su queste diverse reti cioè chi appunto ci è riuscito lo ha fatto visto quello che poteva portare l'impatto economico e la vendita di tali BNB su queste reti sul prezzo stesso di BNB è stata presa la decisione contantando ogni singolo nodo validatore di bloccare e far ripartire la rete stessa e questo è quello che ci riporta anche CoinMarketCap qui in sua headline quello che riporta anche il CEO di Binance si si e praticamente lui stesso dice le blockchain decentralizzate non dovrebbero non sono pensate per essere fermate ma contattando la community e i validator singolarmente uno per uno sono stati in grado di impedire la diffusione di questo incidente questo ovviamente manifesta l'alta centralizzazione presente in questo momento ancora nel settore e più si va in basso rispetto a Bitcoin e più intendo come rating come capitalizzazione più questo fenomeno effettivamente si fa sentire e si fa sentire sempre nei momenti difficili difficilmente queste cose avvengono quando tutto va bene quindi stiamo vivendo proprio il classico bear market con diverse situazioni che continuiamo a portarci dietro quindi a livello economico si è salvata praticamente buona parte del prezzo di BNB proprio interrompendo il tutto altrimenti sarebbe sceso veramente tanto con quella sell off pesante però a livello diciamo fondamentale alcune critiche che vengono fatte vengono veramente esposte in modo importante su queste blockchain faccio un report di ulteriori notizie così vado verso la chiusura di questo Crypto Monday che già sta diventando come sempre molto lungo e arriva una regolamentazione e un ban da parte della comunità europea per tutti i pagamenti verso e dalla Russia quindi da crypto account legati alla Russia e tutti i servizi di questo tipo quindi tutti quelli che sono identificabili come account o wallet o address russi non possono interagire non possono né ricevere né inviare transazioni verso l'Europa questo fa parte di ulteriori restrizioni e sanzioni che stanno avvenendo proprio per il conflitto che si sta vivendo ovviamente tutti quelli che sono possibili da bloccare ad esempio su Bitcoin questa cosa in realtà non è possibile a meno che non fa parte di un servizio che si può effettivamente andare a censurare la direzione che si sta prendendo è quella come detto di andare verso le central bank digital currencies quindi la creazione di una rete che andrà a far comunicare le banche centrali del mondo e andare a gestire un sistema di pagamento attraverso un unico gateway e questa è la strada che dobbiamo tenere a mente verso il futuro è praticamente la nemesi di quello che è Bitcoin ed è qui che poi arriverà il grande scontro tra due diverse filosofie ma di questo ne abbiamo tempo abbiamo tempo di parlarne c'è qui Swift che ci dice appunto che gli esperimenti in questa direzione sono andati ad aumentare parecchio che hanno raggiunto un livello importante parlando sempre di sistemi di pagamento c'è FTX l'exchange che espande la collaborazione con sistemi di pagamento Visa andrà ad offrire diverse carte di debito in ulteriori paesi quindi farà partire anche quel tipo di funzionalità intanto c'è Unstoppable Domains che sapete seguo da diverso tempo che fa una partnership con OneInch queste sono quelle cose tecnologiche che mi piacciono rivolte alla mass adoption infatti con OneInch che parte come exchange decentralizzato ma poi anche un wallet a un sistema di DeFi si può interagire tramite degli address con Unstoppable Domains ossia non c'è più bisogno di operare con quegli address alfanumerici difficili da ricordare ma avendo quegli address inseriti all'interno di un dominio Unstoppable Domains si possono usare domini leggibili all'uomo quindi ad esempio ho come dominio tiziano.crypto e tiziano.tridico.crypto potrei utilizzare quel dominio per interagire con la DeFi e il tutto sta diventando molto più user-friendly questi sono quei passaggi indispensabili per arrivare alla mass adoption che in queste fasi non si raggiunge perché quando c'è un calo di fiducia un calo di attrattiva e veramente se ne sente di tutti i colori verso il mondo cripto è difficile attrarre nuove persone ma ci sarà comunque in futuro nuovamente un'ondata di interesse nuovamente una fase felice stiamo probabilmente come detto all'inizio arrivando a un bottom di questa fase a un punto più basso dobbiamo ancora toccarlo e una volta passato poi c'è solo da vedere gli effetti benefici di tutte queste cose che si stanno sviluppando inoltre anche Crypto.com che sapete con cui collaboro da diverso tempo ormai da diversi anni praticamente da quando ancora si chiamava Monaco Card che seguo la loro ICO e tutti i loro sviluppi sono una delle aziende che si espansa di più nel mondo per far integrare far arrivare nuove persone in questo settore adesso il percorso continua con Apple Pay e Google Pay che vengono lanciate non solo in Canada ma in altri paesi quindi è possibile inserire la carta adesso in diversi paesi nei circuiti Apple Pay e quindi pagare magari direttamente con il telefono o lo smartwatch o l'Apple Watch in questo caso questo vorrà espandersi e la politica dell'azienda è quella poi di integrare questo sistema anche in altri paesi e quindi anche in Europa questi sono ulteriori step di cui necessitiamo sono ponti praticamente tra il mondo fintech e il mondo cripto che pian piano vanno ad unirsi grazie a questi player a queste aziende qui un'altra notizia è l'approvazione a livello regolamentativo di Crypto.com in Francia quindi le autorità di regolamentazione ufficializzano l'azienda e l'utilizzo del servizio nel paese parliamo di uno dei paesi comunque più importanti in Europa quindi è una notizia rilevante c'è il lancio a livello tecnico di Kronos 2 e tutta una serie di innovazioni e di sviluppi che stanno arrivando c'è proprio tutta la roadmap che si può seguire qui vi lascio il link in descrizione perché mi prenderebbe molto tempo parlare di tutte queste fasi comunque Kronos 2 sta arrivando è la blockchain proprietaria di Crypto.com dove appunto si sta sviluppando la DeFi c'è poi invece una notizia che sta girando che è quella della fine della partnership o comunque una dietrofront da parte di Crypto.com nella partnership con la FIFA per la Coppa del Mondo questa è una notizia che non risulta essere ufficiale anzi in realtà c'è proprio il contrario il confermare questa partnership quindi Crypto.com non sta facendo dietrofront e rimane sponsor del Mondiale di Calcio in Qatar con la FIFA e questo è uno degli eventi più importanti che sta per arrivare a fine anno che farà conoscere con questo sponsor anche il settore stesso quello che è successo è stato unire diverse informazioni che poi sono un mix di informazioni prese in modo superficiale come ad esempio la diminuzione di alcune spese che stanno avvenendo un po' tutte le società anche su Crypto.com come assunzioni noi dipendenti eccetera con delle notizie che invece non erano mai avvenute ad esempio la partnership che si stava trattando con la Champions League che però non è mai andato in porto quindi non è stato un togliere una partnership è stato un accordo che non è mai stato raggiunto questo invece è un accordo ufficiale che rimane valido quindi ci tenevo a smentire un eventuale rumor fasullo che stava girando detto ciò per oggi ho dato tutte le informazioni rilevanti che volevo su QuaSquare News trovate tutte le informazioni aggiornate sul canale Telegram inoltre questa settimana c'è una live che analizzerà proprio la situazione magro economica e il reset in arrivo di cui ci parleranno Filippo Angeloni e Francesco Simoncelli su Coinsquare canale YouTube questa settimana non riuscirò ad esserci perché in viaggio ma ascolterò con piacere la live per quanto riguarda invece vi ricordo l'appuntamento per chi volesse informarsi su come utilizzare i swap e sull'analisi sul token di governance di Metaswap ci sarà la live oggi troverete il link all'interno del gruppo Coinsquare Tutoring che è nel gruppo Metaswap Telegram troverà accesso comunque al link della live di questa sera dove si andranno comunque a rispondere anche ai diversi dubbi e alle diverse domande che portano queste fasi di calo di prezzo generalizzato e la tanta paura che si sta generando attorno per quanto riguarda il criptomanda invece ci troviamo lunedì prossimo cercando di vedere cosa succederà in questa settimana quello che porterà appunto il CPI quello che sarà il risponso dell'inflazione e dei mercati c'è tanto da studiare c'è tanto da approfondire questo è un bear market di quelli che ci ricorderemo ciao a tutti e buon lunedì 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 e buon lunedì